Bentornati ragazzi, nuovo video della TuttoTech. Oggi andiamo a rispondere a tanti che ci hanno chiesto ma qualche routine un po' particolare che si può fare? Allora bene o male poi in base ai prodotti che avete in casa le routine più o meno sono sempre quelle. Quindi noi abbiamo creato quattro routine che sono quelle più comunemente utilizzate per poter sfruttare al meglio la nostra assistente vocale. Esatto sì diciamo che è più un video per far vedere proprio come costruirle questa routine anche se tanti di voi ormai lo sapranno benissimo come si fa però abbiamo ricevuto ancora tantissime domande richieste messaggi in privato e quant'altro che chiedevano ancora specifiche ma non riesco ma non funziona allora speriamo che questo video vada proprio a concludere diventa lapidario per quanto riguarda allora c'era anche da dire che come abbiamo sempre detto da quando abbiamo cominciato ad affrontare l'argomento della nostra assistente vocale che tante volte diamo per scontato che le cose le sappiamo fare noi le sanno fare tutti. Giustamente e sicuramente ci avranno scritto quelle persone che hanno acquistato da poco il prodotto non avranno fatto lo scroll sul nostro canale perché comunque come diceva Marco ne abbiamo fatti tanti di video su queste routine però una rinfrescata non fa male a nessuno e quindi partiamo col video e vi facciamo vedere come funziona vai allora andiamo a premere il tasto più in alto a destra nome routine il nome routine in realtà non influisce poi sull'utilizzo della routine quindi la possiamo chiamare anche semplicemente guardiamo la tele come poi daremo il comando quando questo accade voce vedete già esce il nome del dispositivo che dobbiamo scrivere il comando che daremo avanti tasto in alto a destra aggiungi un'azione più casa intelligente tutti i dispositivi tv on aggiungiamo un'ulteriore azione tasto più casa intelligente tutti i dispositivi sala on che è una luce piccola vicino al televisore aggiungi un'azione alexa dice personalizzato buona visione fatto questo premiamo in alto a destra salva ecco guardiamo la tele tasto sempre più in alto a destra nome routine la chiamiamo buonanotte avanti quando questo accade voce a nanna avanti aggiungi azione casa intelligente tutti i dispositivi tv spento aggiungi azione casa intelligente tutti i dispositivi sala off avanti aggiungi azione alexa dice personalizzato sognidoro salva salva ecco a nanna sognidoro tasto più in alto a destra nome routine la chiamiamo rientro a casa avanti quando questo accade voce sono a casa avanti aggiungi un'azione alexa dice personalizzato bentornato aggiungi azione caso intelligente dispositivi facciamo accendere una luce aggiungiamo azione musica e podcast gli possiamo andare ad inserire la fonte quindi diciamo amazon music per una mezz'ora va bene perfetto riproduci rock anni 90 avanti salva tasto in alto a destra ecco sono a casa ben tornato la stazione rock anni 90 gratis su amazon music creiamo l'ultima tasto più in alto a destra solito giro nome routine la chiamiamo esco avanti quando questo accade voce esco avanti aggiungi un'azione casa intelligente tutti i dispositivi in questo caso iniziamo di spegnere un po di luci che di solito rimangono accese quindi abbiamo inserito un po tutte le luci e il televisore lo spegnimento e ci facciamo dire personalizzato torna presto tasto in alto a destra salva ecco esco eccoci qua come avete potuto vedere i passaggi sono bene o male sempre gli stessi però era giusto appunto rimarcarlo e farlo vedere per bene passaggio per passaggio un po per tutti i nuovi iscritti al canale o per chi ancora non ha confidenza o chi magari si è iscritto al canale ma ancora non l'ha acquistata la nostra assistente perché ancora in dubbio dici ma che è stai cosa e invece come potete vedere fa delle cose che magari sono semplici così ma sono molto utili comunque io per esempio sfrutto tantissimo quella della buonanotte alla sera dico buonanotte mi auguro la buonanotte in più spegne la televisione la lampada tutte le luci che ho acceso e tante altre cose con le routine ci si può veramente divertire sta solamente a voi in base ai prodotti che avete a casa i prodotti smart e alla vostra fantasia vi ricordiamo nuovamente che abbiamo aperto un canale telegram tutto tech 1 sul quale pubblichiamo ogni tanto in retroscena ogni tanto tante offerte che andiamo a selezionare noi personalmente quindi se vi andate iscrivetevi sul canale non vi arriveranno 57 milioni di notifiche quando troveremo qualche offerta ben centrata che secondo noi ne vale la pena ve la pubblicheremo lì bene ragazzi io direi che per questo video è tutto ci vediamo al prossimo ciao ciao ciao